Diamo una lezione ai tirati! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sopravvivrai. Risparmiate il dolore. Siamo a ricarico! Dobbiamo fare in fretta! Guardate qua! Sopravviviamo! Oh! Oh! Va ricaricando! Oh! Ora ricarico! Pronti a esplorare! Esploratori operativi! Andiamo a morire! No, mi hanno beccato! Devi tirarti su! Faccio forza! Non possono batterci! Termiate il dolore! Per Sitra! Sono a terra! Ho bisogno di aiuto! Sto ricaricando! Sto ricaricando! Oh! 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 Grazie a tutti. Ora ricarico! Esploratori nemici in volo! Utileteli in fretta! Ricarico! Merda, mi serve una mano! I nostri esploratori sono attimi! Ci sono qui! Ammazzatevi all'altezza! Ora ricarico! Devo ricaricare! Prezzo! Prezzo! Oggi per la retognizione! Esploratori operativi! Oh! 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 Forza, forza! Pronti! Sto ricaricando! Il nemico ha inviato degli esploratori! Guardatevi le spalle! Sto ricaricando! Sto ricaricando! Ottimo lavoro! Fottiti!